Musica Waheyi kooj, ben ritornati da vostro andro a link romantone in questo nuovo episodio di Yokei Watch Blasters Della scorsa volta ho solo fatto la prima missione e poi l'ho salvato perché il presupposto era che tu fai la prima missione e poi ti fermi Giustamente, quindi oggi continuiamo il nostro viaggio, ben trovati, io sono felice che si è filato tutto liscio Ebbè certamente Whisper, abbiamo lavorato solo Don Evina, non è niente per noi? Una ricompensa magari? Che tipo di ricompensa G-Bayan? Una ricompensa? Che ne dici di questo? A sto punto anche un bacio sulla guancia, proprio dovremmo esagerare Che cos'è? Si chiama App Trofei, installando questo gioiellino potrete collezionare trofei come ricompensa per il vostro duro lavoro Grandioso, mi sento ancora più motivato adesso Oggi però sono davvero esausto, possiamo rimandare a domani? Ora voglio solo rilassarmi con una gustosa barretta di cioccolato È l'odore della paura, quello che sento non sgorna più indietro ora, conigli Non è il momento di pensare al cibo, dovete salire di livello Cosa? Ora non mi dire che qui abbiamo altro da fare? Uffa Basta con le lagne, andate alla palestra a primo piano E volete di rimettervi in forma, chiaro? Ok Sapete che mi sembra? Che in questo gioco, no? Se avete visto le mie resplay di Yoke Watch 3 Che cosa succede qui? Praticamente, che succede? I personaggi parlano nell'overworld Senza però leggere dialoghi Dicono frasi così ogni tanto Come stiamo vedendo appunto su Yoke Watch Blasters E da qui devono aver preso l'idea di non far più leggere i loro dialoghi Ma farli solo parlare così ogni tanto E potrebbe andare bene Però un po' mancheranno secondo me i dialoghi letti Non puoi fermarmi Fermartelo fare cosa? E poi perché urli in quel modo? Sono Mr. Velo Rapido Sono senza freni come la mia broma Velo Rapido? Mr. Velo Rapido? Non si chiamava in un altro modo? Boh, forse mi sbaglio io Sì, la mia broma di mazzolare è chi si ingozza di merendine Fantastico, un altro sfidato E tu, da quanto tempo sei qui? Da un po' dire vero Sono arrivato con il Sergente Quadro Quindi tu sei un altro amico del Sergente Quadro? Certo, lo conosco da una vita Da oggi lavoro qui, sarei vostro, Mr. Nessuno vi chiamerà più Blasters da quattro soldi Vi do la mia parola Ora ci penso e a farvi salire di livello Ora puoi salire di livello grazie alla palestra a primo piano Uh Ah, con le sfere Oni salgo di livello E mi toccherà farmare un bel po' allora La palestra a primo piano è la mia sala preferita Parola di Mr. Velo Rapido Se me lo chiedi posso far salire di livello i tuoi Pokémon? I tuoi Pokémon? Andrelink? Che succede? I tuoi Yo-Kai Perché ho letto Pokémon? Ho letto Pokémon Per far salire di livello uno Yo-Kai ha bisogno delle sfere Oni Se iniziamo così, i presupposti per essere una serie brutta ci sono tutti, eh Selezionando i Yo-Kai tiene primo dei pulsanti a seconda che salga di livello Tenendo primo dei pulsanti consumerai sfere Oni Non potrai salire di livello da nessun'altra parte Non dimenticartelo Prima di tutto usate le sfere Oni appena raccolte Per far salire qualcuno di livello Su, forza! Perché i puntini? Potevi mettermi tutto Ah, aspetta, ma devo parlare con lui Aspetta, ma qui non c'è altro? No, c'è solo un fornelletto lì Questo che pesa, sarà una bilancia? Una bilancia un po' particolare, ma ok Mi chiedo che tipo di torture ci facciano con questa catena Questo qui invece? Fratello Zen, non sei ancora abbastanza forte Va bene Bene, cerca di salire di livello Ok, salire di livello Jibanyan Ok, è salito di livello Va bene Faccio salire intanto tutti di un livello Poi ricomincio da capo, no? Piano Ok Cerchiamo di dosare Ok, va bene così, va bene così Non c'è problema A posto E questa è fatta È così che funziona Salire di livello è divertente Continuerò a spingervi al limite Preparatevi Grandioso Buon D Truppa La prossima missione vi attende Che cosa? Un'altra? Diccio? Questa volta ci sarà uno yokai amico ad accompagnarvi Uno yokai amico? Andate alla sala relaxa al secondo piano e fate aiutare dal signor felicio Corriamo alla sala relaxa al piano 2 allora Ci teletrasportiamo Con il potere del toko Il sergente coltri mi ha certo che cosa mi serve Un yokai amico, no? Per andare in missioni insieme Può portare con te uno yokai Ah, quindi man mano possiamo andare avanti e portarci più amici Non hai bisogno di prendere il controllo degli yokai amici perché possono combattere da soli Gli yokai amici partecipano alle missioni con te Puoi portare con te fino a tre yokai amici Ah, ok Quindi posso portarmene più di uno Comincia scegliendo un amico da portare con te La prossima area l'affronterete insieme E infatti solo due Ma sapete che c'è? Io sceglierei dentro strello perché comunque sia confondo il nemico Anche se vorrei portarmi un muro Un muro in questo momento non mi serve Un muro Bene Questo è tutto riguardo agli yokai amici Passiamo brevemente al prossimo argomento Le tribù yokai che conosco fin troppo bene Al tuo tribù ci sono tanti yokai che condividono mosse e dati simili Dandone che alle tribù di appartenenza potrei farti idea sul tipo di yokai Puoi scoprire a quale tribù appartenendo a uno yokai guardandoli con una tribù Bene Queste cose le sappiamo Per tua informazione faccio parte della tribù generosa Infine ti parlerò degli elementi yokai Apri bene le orecchie Ah, gli elementi, si, si, si Le mosse di yokai e grandi mostri sono caratterizzati da un elemento Ci sono sette elementi in attacco Fuoco, acqua, tono, terra, ghiaccio, fonte, vertice Yeah Vento e vortice Perché due cose uguali? Simili, cioè simili Più che uguali Sono molto simili Gli yokai e grandi mostri hanno sia elementi forti che deboli Si attacchi con un elemento a cui sono vulnerabili I danni saranno più intensi Come faccio a leggere così velocemente? Non lo so Ora vai al centro di comando e prepara di fare una missione E parti Vedi? Leggo veloce ma leggo male Va bene, andiamo al centro di comando Mi sono trasportato dove ero prima Sergente Seleziona la missione Bene, bene Ok, storia A quanto pare Nuovo Vuoi accettare questa missione? Vai in missione con uno yokai amico Le abilità di lotta raddoppieranno E sconfiggi tutti gli yokai malvagi Malvagi Ah ok, quindi anche Dentostrello Che in realtà potrebbe volare ma prende anche lui Il palo Vediamo un po' Whisper che guida Ma no, non ci fa più vedere Solo la prima volta Ma dai Vabbè senti Tu stami a sentire Tu fai quello che faccio io Va bene Sarà una baseggiata se combattiamo insieme Va bene Non abbassare la guardia No, no, no Proprio no Gli yokai dovrebbero essere più forti Stavolta Wow Ah, ah Ma non mi ha visto È andato Così Dentro stella Non sta facendo nulla Però Ah Beccati questa Ehi Ah, ok Dentro stella ha fatto l'abilità Va bene Frammento audace raccolto Bene, bene, bene Voglio questa Sferaoni Ma me la prende è grande C'è Shock Up lì fuori Ma lo vado a fare io lo Shock Up A Shock Up Uh Ta, ta, ta Eh, no Eh, no Eh, no Ho capito Oh, schiva Ok, grande Ah, ah, ah Fai qualcosa pure tu però Dentro strello Eh Tutto io sto a fa Ho l'attacco basso Dai Eppure lo Spirit Vabbè, lo Spirit non mi interessa Anche perché mi sa che è l'Energy Max Non possiamo ancora aiutarlo Usarlo, voglio dire Yeah Opa Ma c'è uno Yooka è più forte qui O sbaglio? Sbaglio? No, non sbaglio Ok Che stai facendo il tuo amico a terra? E quindi? Eh E ora Cosa possiamo fare? Che facciamo? Resta con Non andare verso la luce Calma Ti batuffalo di crema Non ha ancora completato l'ascensione Come? Che vuol dire? Se il tuo PS scendono a 0 durante una missione perderai sensi Se perdi sensi inizierai ad ascendere e l'ascensiometro comincerà subito a svuotarsi Se l'ascensiometro arriva a 0 ascenderai Se ascendi non potrai più combattere in quella specifica missione Ma non sarai totalmente fuori dai giochi A termine della missione tornerai con la tua squadra Ah, ok Ricordati che qualcuno potrà ancora rianimarti se l'ascensione non è completa Avvicinati all'alleato che ha perso i sensi e tieni premuto B per rianimarlo Mentre tieni premuto il pulsante B l'ascensiometro salirà L'alleato sarà stato completamente rianimato quando la barra sarà piena Ok, la missione fallisce se tutti quanti perdono i sensi Puoi essere ancora rianimato Basta che ti avvicini a lui e tieni premuto il pulsante B Tieni duro Ti ha animato, mannaggia Io ho appena in tempo Cavoli, ci ha mancato poco Ecco perché ho detto di stare attenti Anche con un amico Yooka a tuo fianco le missioni sono pericolose Ma se serve può sempre cambiare lo Yooka che controlli Ok, seleziona cambia, va bene Se potrai cambiare lo Yooka è vicino a te Ad ogni modo quel nemico è ancora vivo e vegeto Usa cambia e prenditi la tua dolce dolce vendetta Ok, praticamente Ah è andato? Ok Torniamo con Jibanyan Purtroppo usare... Ok, perfetto Va bene, possiamo andare ma veramente avrei ancora degli Yooka da sconfiggere io Non so se vi siete resi conto E poi... Una Yooka ha bisogno di aiuto? Ok, sto andando a salvarlo Calmatevi Arriva Andrei Link qui Ma... ma... ma vabbè Ma chi è qua? Eeeh... Allora, beh... Che sta facendo? Che sta a fa... Dentro Strello? Avete scoperto tutti gli Yooka nemici Beh, va bene Scusa se sono triste Oh, ok Grazie, ma hai davvero salvato Questa missione di salvataggio non l'avrei vista Ma l'avete cavata bene Sì Ah Se non ci foste riuscite avrei perso le speranze Ma... È difficile far colpo su di Tenebina Vedi, anche Jibanyan lo dice Ora fuggite Che fuggite Che fuggite Graoni Ok E poi possiamo anche andare, dai Va bene Andiamo Tiene premuto Va Ottimo Sì, quella di Nervi Macio Che ha sconfitto con un colpo solo Dentro Strello Era fatta apposta Comunque sia Si capisce Non è che... Con un colpo davvero lo manda K O Sarebbe assurdo Andiamo un po' Voglio vedere quanti punti ricevo Magari posso salire di un altro livello con tutti Ma con tutti sicuro 108 Pochine Per questa missione Avicorium ti permetterà di correre senza stancarti La sua resistenza di... La sua resistenza non diminuirà per 30 secondi Quindi sugli Ok Watch normale praticamente solo per 30 secondi corriamo Ok Che succede? Che ci facciamo qui? Il Sargente Quattrocentri andrà alla bottega a primo piano Benvenuto Grazie Che noio Sono molto impegnato io Prego Ho divani su cui stendere le mie barrette di cioccolò a trangugiare Ah, è un tetto su cui prendere il sole per non parlare di programmi da vedere Grazie per avermi salvato là giù Oh, c'è solo otto i tuoi piani Non è la mia vita di tenersi occupati Beh veramente si tiene occupato oziando E va bene, non fate caso La voce di Nobita? Miau, miau, miau Ma che miavolo Per ottenere sparioni Ah, un'altra cosa Devo spiegarvi come portare con voi degli oggetti quando andate in missione Ricorda che puoi anche portare in missione gli oggetti alla battaglia Dall'app Inventario sullo Yoke Pad puoi creare sempre gli oggetti alla battaglia Inoltre della stessa app puoi anche modificare l'equipaggiamento Potrai cambiare quest'ultimo gli oggetti prima di iniziare le missioni Parla con se gente quadro E sulla schermata in cui trovi l'icona In Missione Premi il pulsante Y per accedere all'inventario È molto utile poiché ti permette di cambiare tutti gli oggetti fino all'ultimo minuto prima di andare in missione Quindi la bottega di Annebio ora è qui nel caso in cui aveste bisogno di fare acquisti Va bene Annebio Mi fido di te Scusa se sono triste No non mi sembra David Carbolino però può essere Mamma mia non c'è più Mamma mia Mamma mia d'orecchio buono Scusa se sono fatti in inaugurazione in grande stile Pover Annebio È triste Centro di comando Perché senza guardare Allora sergente che c'è? Eccomi qua Buone notizie per voi Quanto buone Che genere Super buone le cose stanno già cambiando in meglio qui Ma c'è ancora qualcosa che mi manca in quanto blasters Qualcosa di essenziale Che ne pensate? Credete di aver capito a cosa mi riferisco? Certo È chiaro cosa ci manca La vicina Armionia Armionia Armonia Oh Ok Suona meglio di Armionia Però Negativo Non so nemmeno cosa siano Stai scherzando? Non conosci te vicino Armionia La migliore pop band di Nia Kamoto Nia Sushi Nia Kamoto No non capisco Sarebbero le IKB48 In realtà loro Le vicine Armionia Che in giapponesi si chiamano Nia KB48 Appunto Gbagna nel loro fan numero uno Proprio hardcore Se solo Cos'era quel Che versi sono? Ma cos'è? Se solo fosse così serio Pure nel suo dovere di blaster Ora basta con le chiacchiere Aprite bene le orecchie Quello che vi manca è Un gruppo di Ioka Che combatta al vostro fianco Che cosa? Perciò ora dovete trovare degli alleati Questa è la vostra prossima missione Va bene La missione al centro di comando Ok Se resti sono una missione Aspetta però Posso anche andare magari Ad aggiungere Intanto salgo di livello Perché ci vuole Va bene Ci bagnano tutti quanti i saliti di un livello Tutti quanti altri Insomma Va bene Andiamo al centro di comando Anzi una salita relax Veramente vorrei andare prima Se non mi sbagliasse ogni volta A premere Posso portarmi qualcun altro ora? Manco se ti pago Felicio eh Va bene Non c'è problema Allora sergente Sperzionerà missione Dai Missione Oh storia ovviamente Nuovo Femm cisa con uno yokai Oh rumori o non hanno fame? Non hanno fame vuoi scommette? Ah non ho niente da equipaggiare La collochiamo qui Ok Cioè Non ho niente da equipaggiamento per gli yokai Ho solo strumenti da fusione Credo che siano Vabbè saltiamo la scena Che non serve Vederla ogni volta Precipitiamoci Precipitiamoci All'interno Dell'azione Nel vivo dell'azione Non so parlare Questa non è una novità È il momento di reclutare altri blaster Se sconfiggito uno yokai C'è la possibilità che si rialzi Ma forse solo eh Forse Che fai ti alzi? No questo non si alza Raccogliamo Un guardone della tribù generosa Che usa mosse curative Ah Davvero No no Infatti Questo yokai appester Che lo vorrei Che sarebbe un buon attacker Attacchi combo Rumorio E a forza una porta Già abbiamo fatto No 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 Devo trovare uno yokai Che mi fa da compagno Pester Voglio te Voglio Pester Alzati ti prego Sì 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 Si è rialzato Grande Pester Lo voglio Lo voglio Ce l'abbiamo fatta Abbiamo un nuovo amico Calma Baffetto Non è ancora finita Hai ottenuto una possibilità Di amicizia Vai A volte Quando sconfiggino Yokai Potreste ottenere Una possibilità Di amicizia Avrei a disposizione Un periodo di tempo Per far amicizia Con lo yokai Non lasciartelo sfuggire Avvicinati E parlaci Premendo il pulsante A Apparirà il cerchio Della possibilità Di amicizia E poi un cerchio Più piccolo Inizierà a girare Quando il cerchio Più piccolo Saldina Con il cuore Premi il pulsante A Se ottieni Una quantità Di cuori Sufficienti Eltre il tempo Limite Otterrai Una medaglia Yokai Potrai aggiungere Tuo nuovo amico Alla tua squadra Dopo la missione Puoi visualizzare Le medaglie ottenute In missione Premendo start Fai attenzione Alli yokai E nero Sulla mappa Dello schermo Inferiore Però Con loro Non potrei stringere Amicizia Davvero Sembra noioso No 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 Piantatela Con questa lagna E parlate con lo yokai Sbrigatevi Prima che scade il tempo Vediamo Ok è andata Vabbè Pensavo tipo girasse Super veloce Eccellente E ha ottenuto Una medaglia Yokai Un attimo Che sconfiggo Questo No Lo sconfiggo Giusto per raccogliere Questo E la sfera Oni Che si trova Dove Qua Qui Qua davanti Qua dentro No Qui E vabbè Ragazzi Siccome bisogna Farmare Un bel po Preferirei Farmare Quel che posso Prima di andare Via dal livello No E anche Rumorio Se n'è andato Ok Ah Dovete andare In missione Di nuovo Vabbè No Non è che ci stessi Provando Eh Però dice Sai Uno Mentre combatte Vede E poi Che un'altra Sfera Oni Qui Grande Ci voleva Non sullo Scevo Ancora tu Vai via Ok Sfera Oni Grande Perfetto Vai Va bene Così Abbiamo già Farmato un bel po Eh Iniziamo a capire Come funziona Il farming In Yokei Watch Va bene Va bene Cioè Si capisce Subito Non è che ci voglia Tanta scienza Eh Però Iniziamo a ingranare Bene 157 Ehi Va bene Niente male Pester Facciamo un altro Pochetto Poi dopo Concludiamo E' bello Avere nuovi amici Finalmente Vedo la luce In fondo al tunnel Ora che avete Degli amici Che andate Di provare Questa Circoli Yokei Che cos'è? Non lo sai? Ne parlano tutti adesso Quello di circolo Yokei è un app Per i gruppi Di Yokei amici Man mano che stringe Misise con gli Yokei Questi verranno Raccolti in gruppi Quando formi un gruppo Di Yokei Il circolo Yokei è completo Verrà scattata Una foto Degli Yokei E ti sarà data Un'esclusiva Se collezioni Dei gruppi Potresti ricevere Oggetti O Yokei Come ricompensa I sigilli E' proprio utile Collezionare Yokei E completare i gruppi Eh? Wow Circoli Yokei Sembra interessante Ehi Truppa Ora basta Cinci schiare Andate alla bottega Di Annabby A primo piano Annabby Il negoziante Mi sta cercando Lappertutto Ma stavamo in missione Secondo voi Cosa vuole? Andiamo alla bottega Di Annabby A primo piano Ma ci andiamo Nel prossimo episodio Cucci E come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Anche questo Episodio Per i Yokei Watch Blasters Domani purtroppo Essendo domenica Non c'è Però io sono bravo E quindi che faccio Lo carico anche domenica Perché è la prima settimana Di programmazione Di Yokei Watch Blasters Quindi per questa volta Anche di domenica Però Stamattina Dovreste aver visto Il video Dove cambio La mia programmazione Comunque sia Spero che questo video Vi sia piaciuto In descrizione Come sempre Vi ricordo i link Per Twitter e Instagram E se ancora Non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi Ci vediamo come sempre domani Con un nuovo video Bye bye